50 persone e 11 automezzi controllati, servizio di vigilanza nei confronti di 13 arrestati domiciliari e 10 sorvegliati speciali. Questa è l'attività dei poliziotti della sezione volanti in servizio di controllo del territorio, nel corso del quale in via Amico Valenti hanno fermato un'autovettura a bordo della quale viaggiavano tre persone. L'autista del mezzo alla vista della polizia ha accelerato l'andatura cercando di dileguarsi. Gli agenti hanno a quel punto raggiunto e bloccato il mezzo identificando i componenti. Dalla successiva ispezione effettuata all'interno dell'abitacolo dell'autovettura, celato sotto il tappetino del lato passeggero, è stato rinvenuto un involucro contenente una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Un altro involucro indosso al conducente del mezzo, un nisseno di 24 anni, è precisamente nel taschino del giubbotto. Il giovane è stato accompagnato nei locali della questura per procedere all'identificazione e da una prima analisi della sostanza al gabinetto provinciale della polizia scientifica. La droga, confermato dalle analisi che si trattava di marijuana, del peso complessivo di 1,4 grammi, è stata sequestrata per il giovane, oltre alla segnalazione all'autorità amministrativa, anche il ritiro della patente di guida. E sempre gli uomini delle volanti sono intervenuti per un'auto in fiamme in via Pola, nelle vicinanze della trafficata Piazza Trento a Caltanissetta. Si tratta di una Fiat 500 di colore rosso appartenente ad un nisseno di 46 anni. Il veicolo era avvolto dalle fiamme, domate poco dopo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Le fiamme hanno causato danni in corso di quantificazioni e non coperti da assicurazione. Le indagini sono in corso per accertare la causa dell'incendio.